Il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, è stato trovato senza vita da un uomo della scorta nel suo appartamento in centro a Roma. Aveva 70 anni. Le indagini dei carabinieri propenderebbero per un gesto estremo. Accanto al corpo, un biglietto farebbe riferimento ad una mancanza di senso della vita dopo la scomparsa della moglie avvenuta poco più di un anno fa. Graziano era dal 2022 a capo di Fincantieri, il più importante gruppo navale d'Europa che conta una presenza estremamente significativa a Porto Marghera, rappresentando la maggiore attività industriale in comune di Venezia. Immenso dolore è stato espresso da tutto il gruppo, dal direttore generale a tutti i dipendenti. In Veneto, una delle sue ultime apparizioni pubbliche, come ha ricordato il presidente della regione Luca Zaia, il loro ultimo incontro è stato alla dunata degli Alpini di Vicenza. Negli Alpini, Graziano aveva iniziato una brillante carriera militare che l'aveva portato nel 2015 alla nomina a capo di Stato Maggiore e nel 2018 a presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, tra le innumerevoli manifestazioni di cordoglio, quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello.